Mai sentito parlare di operatori booleani? In questo video vedremo che cosa sono, a che cosa servono e come si possono utilizzare per fare ricerche in una banca dati bibliografica. Gli operatori booleani sono le particelle AND, OR e NOT che in una banca dati bibliografica si possono usare per unire tra loro i termini della ricerca. Attenzione, in molte banche dati, per funzionare bene, devono essere scritti esclusivamente in maiuscolo. Gli operatori booleani ci aiutano a recuperare i risultati più pertinenti, proprio gli articoli di cui abbiamo bisogno per la nostra ricerca, e a ridurre il rumore, non recuperando gli articoli che non ci servono. Per questo motivo ci fanno risparmiare del tempo e rendono le nostre ricerche più efficaci. L'operatore AND unisce tra loro due o più termini della ricerca, recuperando soltanto quei record che li contengono tutti insieme. Perciò restringe la ricerca e riduce il numero di record recuperati. Va usato quando si cercano articoli che parlino di due o più argomenti associati tra loro. Facciamo un esempio. Per esempio, devo fare una ricerca sulla danza nella riabilitazione dei malati di Parkinson. Anche qui unirò i termini che identificano i concetti chiave utilizzando l'operatore booleano AND. E così otterrò esattamente il risultato sperato. L'operatore OR cerca in alternativa i termini della ricerca, recuperando tutti i record che contengono almeno un termine, e anche quelli che contengono i termini tutti insieme. Perciò amplia la ricerca, aumentando il numero di record recuperati. Va utilizzato quando si cercano più concetti anche in alternativa tra loro, o quando un concetto può essere espresso in più modi diversi. Ad esempio, mi servono dei documenti sulla bulimia e sull'anoressia. Ho bisogno di trattare entrambi gli argomenti non necessariamente associati tra loro. Cercherò i due termini uniti dall'operatore OR. E così troverò o articoli solo sulla bulimia, o articoli solo sull'anoressia, o articoli che trattano entrambi questi argomenti in associazione. Facciamo un altro esempio. Devo recuperare degli articoli sull'epidemia di influenza. Questo concetto può essere espresso da più sinonimi. Li userò tutti combinandoli insieme con l'operatore OR. In questo modo troverò articoli che parlano dell'influenza, qualunque sia il termine che gli autori hanno scelto di utilizzare nel titolo, nell'abstract o nelle parole chiave dell'articolo. L'operatore NOT esclude uno o più termini della ricerca e recupera soli record che non contengono il termine escluso. Perciò restringe il risultato e riduce il numero di record recuperati. Va utilizzato quando si vuole escludere un concetto specifico che non interessa. Facciamo un esempio. Devo fare una ricerca sulla demenza, ma non mi interessano gli articoli che parlano di Alzheimer. Cercherò DEMENZIA NOT ALZHEIMER. E in questo modo troverò articoli che trattano soltanto la demenza e non si occupano di Alzheimer. Attenzione però! Con questa ricerca, DEMENZIA NOT ALZHEIMER, escluderò anche articoli sulla demenza e sull'Alzheimer trattati insieme, che potrebbero invece essere utili per la mia ricerca. Per questo motivo l'operatore NOT va usato con molta cautela. Quando devi utilizzare più operatori booleani diversi all'interno della stessa stringa di ricerca, devi racchiudere tra parentesi tonde i termini a cui si riferisce ogni singolo operatore, un po' come si fa con le espressioni matematiche. Altrimenti la banca dati non capirà in che ordine li devi cercare. Esempio. Se devo recuperare articoli sull'influenza nei bambini, cercherò tra parentesi tonde combinati con OR i sinonimi per influenza. AND tra parentesi tonde combinati con OR i termini sinonimici per bambini. Se io scrivessi tutti questi termini con gli operatori booleani senza parentesi tonde, troverei degli articoli sull'influenza in generale, oppure sull'influenza nei bambini, ma anche sui bambini in generale. Avrei ottenuto così molto rumore. Riassumendo. AND cerca insieme i termini, riducendo il numero dei risultati. OR cerca i termini in alternativa, aumentando il numero dei risultati. NOT esclude uno o più termini, riducendo il numero dei risultati. Se si usano più operatori diversi all'interno della stessa stringa di ricerca, devono essere chiusi tra parentesi tonde i termini a cui si riferiscono. Buona ricerca!